Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il fis, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo il fis, sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille mille lucciole, venirmi contro insieme, insieme a te, guarda come dondolo, guarda come dondolo con il fis, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo il fis, le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono privi di privi di amore, guarda come dondolo, guarda come dondolo, guarda come dondolo con il fis, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo il fis, sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille 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 lucciole, venirmi contro insieme, insieme a te, guarda come dondolo, guarda come dondolo, guarda come dondolo con il fis, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo il fis, le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono privi di privi d'amore, guarda come dondolo, guarda come dondolo, guarda come dondolo con il fis, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo il fis, sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi tuoi che brillano, ma vedo mille 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 lucciole, venirmi contro insieme, insieme a te, guarda come dondolo, guarda come dondolo con il fis, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo il fis, sarà perché io dondolo, guarda come dondolo, guarda come dondolo, guarda come dondolo, guarda come dondolo con il fis, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo il fis. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno il perché, ammazza il fisico che c'hai, ma chi sei, il principe di Galles? Magara, se fossi il principe di Galles vivrei al castello di Windsor, non qui, alla pensione Silvana. E' permesso? Ma certo che è permesso, bella stelassa, vieni, vieni pure, ma come va, buongiorno, buongiorno, fatti vedere, ma sei veramente una bomba, sai chi sembri, la sorella segreta di Sandra Milo. A me sempre vogliono scherzare, oggi vado a Cinecittà a fare un provino con Dino Risi. Ma brava, complimenti. Però vorrei prendere un tassi perché sul tram mi riempio sempre di pizzicotti sul sedere. Eh, ricapisco, del resto tu al posto del sedere c'hai il mappamondo, eh, si sa, ai romani piace molto la geografia e quindi visitano. Eh, signor Vittorio, io mi vergogno. Io no. Però l'ha dato che lei è sempre così gentile con me. Lo so, no. Mi potrebbe prestare mille lire per il tassi? Mille lire? Mille lire? Eh, non posso, non posso perché purtroppo sono stirato in bianco, guarda un momentaccio, non me ne va dritta una. Ah, chi lo dice? In due mesi ho fatto 36 provini, avessi rimediato una comparsata. Se va avanti così mi tocca tornare a Latina dai miei. Davvero? A mangiare la mozzarella di bufala. Grazie, è lo stesso. No, ma scherzavo. Stavo scherzando. Ciao, salutami Dino Risi, eh. Perché lo conosce? Chi Dino? Come no? Nel 1962 gli ho venduto una macchina, una lancia. All'epoca c'era un'autosalone, pieno di fuori seri, auto bellissime. Sono giocato tutto al casino. Mi ricordo ancora, guarda, 17, 24, 32, orfanelli vicini dello zero, riene va più e... Vai, va. Ciao. Ciao. Ma signor Vittorio? Eh? È che non c'è il mappamondo, c'è una calamita e uno viene un po' affratto da... Devo parlare col signor Vittorio Ferrari. Eh, non credo che ci sia. Vuole lasciargli un messaggio? Ma quale messaggio, messaggio? Gli devo rompere le osce io quel farabuto. Mi deve centomila lire da Natale. Poverino, può darsi che gli ha chiesto un prestito per fare un regalo al figlio? Eh, sì, figlio, quello le ha puntate tutte su Cirillino, un levrero di due anni. Ragioniamo il meneschino, che li apra. Sento il profumo del caffè, lo so che è lì. Grazie. E chiuda. Ci risiamo, signor Vittorio? Chi l'ha in sé questa mattina? Eh, nessuno ragionire, eh, che ho sentito il profumo del caffè e sono venuto a prendere un po'. Guardi, io non so come faccia lei a campare così, in seguito dai creditori. Sempre sento una lira in tasca. Eh, lo so, è il destino che mi avverso, ma sa, è una ruota che gira, eh. Prima o poi andrà meglio anche per me. Ah, guardi, io questa storia del destino proprio non ci credo. Guardi me, io ho lavorato sodo tutta una vita, ho preso il mio bel diploma. Complimenti, vive qui nella casa di Gianni Agnelli, ma per favore, ma molto meglio essere seguiti dai creditori. Bene, 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 qui gli affari prosperano, eh. Gente che entra, compra, spende. Come dite voi a Roma, te va l'acqua per l'orto, eh Giulia? Smettila, Vittorio, che cosa vuoi? Ma sono venuto qui per una visita d'affetto, a trovare la mia mogliettina. Exmo, gli hai piantala di toccare tutto, ho appena finito di mettere a posto. Scusi. Avanti, che cosa vuoi? Eh, si tratta di un grave caso umano, un amico che si trova strozzato dagli strozzini, guarda, cravattato dai cravattari, Giulia. Gli dobbiamo dare una mano. Mi sa che lo conosco, il tuo amico. Giulia, ti prego, non mi abbandonate, è una questione di vita o di morte, ho bisogno di centomila lire. Lei deve restituire un tizio che si chiama Sandrone, che se mi becca, crack, crack, mi spacca in due. Hai presente come Sandrone? No, e non ci tengo a saperlo. È un condominio di muscoli pronti a colpire, il bersaglio sono io. Perché finisci sempre per cacciarti in questi guai? Ma io non mi voglio inguaiare, il problema è che i guai mi corrono appresso, corrono così veloci che mi raggiungono e mi saltano addosso. Vuoi ascoltarmi almeno per una volta? Sono tutto orecchi. Ah, io potrei riuscire a trovarti un lavoro. A me? Sì, un lavoro alla cassa del mezzogiorno. In che veste, scusa? Non lo so, come impiegato amministrativo. In fondo tu hai il diploma di ragioniere, non è vero? Il diploma di ragioniere? Certo che ce l'ho il diploma di ragioniere, come me ne schincari. Il marito di una mia amica è un pezzo grosso della cassa. Ma io non mi ci vedo a bere il caffè di cicoria. Cosa? No, dicevo che ti ringrazio, ma io credo di volare a un altro livello. Io sono uno pieno di fantasia, di genio, c'ho anche un pizzico di follia. E che Giulia, mi vuoi tarparre alle ali? No, voglio solo che tu ti sistemi, Vittorio. Ho bisogno del mensile per gli alimenti. Siamo separati da tre anni e non ho visto una liga. Sempre sto vile denaro, sempre attaccato ai soldi. Giulia, scusa, ma mi sembri diventata negoziante proprio nell'animo. Prendi esempio da me. Io vivo senza condizionamenti, vivo senza meschinità, senza avidità. Senza macchina. Che cosa, scusa? Finora sono sempre stata la negoziante, quella fissata con i soldi, quella che paga le rate della tua macchina. Beh, caro, da oggi non lo faccio più. Quanto si guadagna lì alla cassa del mezzogiorno? 100.000 lire al mese per 16 mensilità. 16 mensilità? Boia Faust. E i più incentivi, premi e ferie pagate. Ma quando dovrei cominciare? Beh, vista la grande amicizia che intercorre tra le nostre signore, io ti posso far entrare entro brevissimo tempo. Ti evito anche la noia burocratica del concorso. È sufficiente che tu faccia una domanda di assunzione come straordinarista, però... Però? Una formalità. Mi devi portare il tuo diploma di ragioniere. Il diploma? Eh, di ragioniere. Tu sei ragioniere, no? Io sono ragioniere. Certo che sono ragioniere. Sì. Papà, ti prego, aiutami tu. Mi vergogno vestito così. Ma dai, Tonio, vedrai che ti diverti. Guarda, ci sono anche le coccimelle. Ma mi diverto cosa? Che domani ho le prove col gruppo. Domenico, suoniamo a San Donà, aiutami. Guarda, così è inutile che te parli con tuo padre, perché tanto lui sei d'accordo con me. Temmo, salta su, l'umago. Caro il Mettonio, purtroppo anche un beat come te deve andare in pellegrinaggio a Santuario del Cadore. Te tocca. Eh già, non vorrei andare in pellegrinaggio dai suoi santi beatless. Mamma, non nominare idee della musica in vano. Sì, guardate capo. Mira, Marietto, da Roma si arriva la notizia. Don Piero Furlano ha avuto la nomina a se diventa vescovo. Ah, che bello. Come avevamo stabilito, noi dobbiamo fare questo uno dell'abito vescovile. E se è tutto pronto, no, Marietto? Veramente non mi aspettavo così presto la nomina. Mi è passato di mente, ostrega. Faccio mia colpa. Una cosa che dovevi far, non ti l'haga fatta. Adesso bisogna fare l'ordinazione al nostro fornitore di Roma. Eh, ma ci vorranno almeno due settimane. Eh, no, ciò, non possiamo aspettare più di sei o sette giorni. Bisognerebbe trovare qualche d'uno che andasse a prenderlo a Roma. Ecco. Marietto? Sì? Perché vetti? Io? A Roma? Sì. No, 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 io non sono mai stato a Roma, no, non posso. E poi come faccio a lasciarti il negozio da sola con tutto quello che avevo da fare. L'avevo. Go da fare. Ma sì, vai, Marietto. Tutti i barocchiani te saranno grati. A Roma? Eh, va bene. Mi sacrificherò. Bravo. Ragazzi, vado a Roma. A Roma? A fare che? Vado a prendere l'abito da vescovo per Monsignor Piero Furlan. Sai che divertimento? Sì, di giorno mi occupo dell'abito. Ma di notte? Romba in ice. Ecco, allora te la puoi spassare con una così. Guardala qua, Vito. Questa è Pamela Brown, la famosa attrice americana. Lei a Roma per fare un film, no? Guarda che polmoni. Vaca boia! Se la trovo, la castigo. Sì, dopo ti svegli tutto sudato. Marietto, ascoltami che così ti combini di sicuro. Te vai in via Veneto e domanda ad una certa Luana. La trovi vicino all'edicola. Di che ti mando a Luciano il trapano? Il trapano? Ma se non hai neanche una puntina. Il trapano, il trapano. A Roma mi conoscono così, vai tranquillo. L'importante è che tiri fuori 20 carte. Ah, ho capito. Trapano a pagamento. Esatto. Ecco, ore 12.30 precise, scola di Alessandra. Però che ansia costata bella, uffa. Manco si stassi maralita a Monte Carlo. Oh, se sgaramata bella, più incasinavo tutti gli altri appuntamenti, sa. Non già mi ricordo più niente. Che scemo dopo i monaci? Che scemo. Alle 13.30 al cinghialone pranzo con l'assessore. Alle 15 in comune per i terreni dell'orgiata. Alle 17 bicchierate al Grandotello. Che c'è mai 17? Bicchierate al Grandotello. In fronte è data una bicchierata, è ignorante. Si dice cocktail. Cockatil. Ti rimanda l'ammassatore l'avviso, sai? No. Sì? Mettiamo la macchina all'ombra, vai. Come sarebbe a dire che mi è bocciata la pupa? Alessandra non studia, non si applica. È sempre distratta, con la testa fra le nuvole. Non si riesce a capire a cosa pensa. E ce la so io a che pensa. Pensa a quel grandissimo fio da una... Scusi, ma a me sta storia le manda in bestia. È da questa estate che il giovane capellone si è insinuato nell'animo della mia bimba, carpendone cuore e sentimenti. E insieme a lui pure quel gran cornuto del mio padre, che è un ispettore delle tasse, che è messo addosso come lo zaino. Per carità, non è che io le tasse non le paghi, anzi, le ho sempre pagate fino all'ultima lira. E poi voi ce lo sapete bene, che io e rette qui e pago pure fino all'anticipo. Senza rifaccia, madre, per carità. E che rette poi? Danza, pianoforte, muoto, sette tortorate, pagate! Se si vuole frequentare la scuola più esclusiva di Roma, qualche sacrificio bisognerà pur farlo. Per carità, è chiffiata. Sono sacrifici benedetti e voi che imparate la cultura dei giovani ce lo sapete. Noi veramente insegniamo la cultura. Mi deve scusare, madre, sono un po' ignorante, ma è per questo che per la mia bambina voglio il massimo. Madre, mi aiuti a farla promuovere, e sono disposto a tutto. Entrando, mi è caduto l'occhio nella vecchia cappelletta intitolata la santa. È la cagiana che è scaduta a pezzi, manciare del serestano. Eh sì, avrebbe bisogno di una bella rinfrescata, ma purtroppo non ci sono i soldi. E qual è il problema? Si è messa gli amanti, no? Le mandano un'impresetta al costo zero a cappellari, famo da capo. Hai visto mai che la santa per ringraziarmi a farmi lago e mi promuove la pupa? Mandi, mandi un'impresetta. Le vie del cielo sono infinite. Taglie! Ti ho detto metà l'ombra, amica Viterbo. Papà, che ci fai qua? Bella di papà. E che ce faccio? Che ce faccio? Sono stato convocavo dalla madre superiore. Sai quanto mi costa? Fate passare la maturità? Il restauro della cappelletta. Cappelletta? Sono due metri guadagli meno dalla cappella assistita. Mi dispiace papà, però ti giuro che dal prossimo anno mi hai venuto a studiare. Sì. Alessandra. Luigi. Tu finché continuerai a frequentare quel forforoso? A scuola combinerai sempre poco. Papà, un po' di rispetto per favore. Rispetto io? Perché lui a me mi rispetta? Manco mi ha salutato. Tiè, guardalo, si è girato, guardalo. Papà, ma ci credo, c'ha paura. Ogni volta che lo vedi, gli dici che gli vuoi tagliare i capelli. Io? E mica gli taglio io. Io gli faccio tagliare al parco nazionale d'Abruzzo, dalla forestale, chi i forbicioni come i muffloni. Vabbè, ciao. Ma dove stai andando? Vado a mangiare una cosa fuori con Luigi e poi vado a studiare a casa sua. Non c'è una cosa fuori con Luigi. Ma che se studia a casa del nemico, se studia? Papà, se tu pagassi le tasse, il papà di Luigi non sarebbe un nemico. Ciao. Te saluto. Se tu non assi ben a scuola, papà, i soldi non gli spenni per la cappelletta, ma ci ha pagato le tasse. Anselmo! Ma che stai? Dormì? Ma no. Fratello caro, perché hai posteggiato qui? Si riempie di pinoli. Ma quali pinoli? Quali pinoli? E questi che sono? I mortacci tu, ah? Sempre siano dato, madre! Ma Alessandra Diamanti l'ha invitata? Ma figurati, cosa vuoi che c'entri con noi la figlia di un ex macellaio? Hai ragione. Mi ha detto Ginevra che ha visto i genitori di Alessandra. Pare che siano dei cafoni bestiali. Ma, per carità! Ha sentito? O vedi che vuol dire frequentare i burini? Ciao, Oni! Ciao, signora! Lo sai che la principessa Savoia gli piace il torero? Non mi parlate di nobili, fammi il favore, eh? Che ti è successo? Niente. A giorni da oggi ho capito che non sono nessuno. Ma che vuoi dire? A scuola di Alessandra mi è toccato a sentire due stronzette che dicevano che nostra figlia non l'ha invitata nelle feste loro perché è figlia di un ex macellaro. Che sarei io? E che io e te siamo due cafoni bestiali? Lo dicevo io che era meglio la scuola pubblica. A giocare. Io e Davide ho avuto tutto. I soldi, una bella casa. Sei macchine. È il benessere. Posso andare in vacanza dove e qua non mi pare. Parlo con l'assessore, col sindaco, si mi impegna pure col Papa. Insomma, sono il padone del mondo io. Ma una cosa mi manca, sai? Un titolo nobilitare. Ma se ti chiamano il principe del mattone? Beh, se per questo pure il duca del forato, che vuol dire? Allora non lo vogliamo dire del castrato. Ma evidentemente, Giovanna, questi titoli non bastano a questa gente che ci hanno la puzza sotto al naso. E allora sai che ti dico? Noi ci dobbiamo impegnare, Giovanna. Ci dobbiamo dare una ripulita per entrare in questo mondo di snobboni. Non tanto per noi, quanto per la nostra bimba, che non deve essere inferiore a nessuno. Alessandra, principessina di papà. Complimenti, eh. Sembrano veri. Ecco, il diploma me lo dovresti fare così. Ma Vittorio, non lasse la perdere. C'è un sacco di lavoro arretrato alla fine del mese dovevo insegnare 100 mila dollari e ancora dovevo fare il cliché. E allora? Mi fichi dentro anche il diploma. Dai, è per un posto di lavoro. Te metti a lavorare. Lo so, è una sconfitta. Purtroppo... Ma del resto, 16 mensilità. Scusa, senza fare niente. È come far 13 a totocaccio e non ritirare la vincita. E dai? Vabbè, te lo faccio, va. Fammi vedere. Ecco. Me ne schiencheri. E che vuol dire? È il cognome del proprietario del diploma. Gliel'ho carropito di soppiato. Solo che glielo dovrei consegnare prima che se ne accorghi. Quindi, un po' di velocità. Bella. Vabbè, dammi due giorni e te faccio diventare ragioniere. Ma mu fattene ciò da fare. Grazie. Grazie. Oh, li attacca qui i ventisacchi. Ma perché? Sono falsi. A post. A ripetirla. Si è proprio attaccato i soldi, eh. Falsi. Scusa. Ciao, Memmo. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera, Vittorio. Ciao, Laura. Come va? Gualtiero, un altro giro di champagne per tutti. Davito, non ti allargà. Poi chi paga? E pago io, no? C'hai di fronte un ragioniere della casa del mezzogiorno da 16 mesi in l'Italano. Non so se mi spieghi. Ah, 16 mesi in l'Italano. Qui so' 16 mesi che non paghi. Viene, 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 sape tu che vieni, eh. Allora tu qua si campa. No, no, là sto tavolo, è prenotato. Vieni, vieni, vieni. Signor Vittorio, ma che fa? Niente, è arrivato uno che mi sta antipatico. Eccolo qua, questo è il tavolo, eh. C'è lo champagne, c'è tutto. Eh, guardate, guardate. Guardate ma non guardate. Guardate ma non guardate. Guardate ma non guardate. Ha già fatto. Guardate ma con discrezione. Non so se vedevi che guardate. Guardate che bellezza, che bella guaglione. Quella la vestita di rosso, eh. La conoscete, poco? Che vi aveva detto, eh? Che si campavano. Lasciate fare a me. Sedetevi, sedetevi. No, sedetevi voi. Sì, sì, sedetevi. Non c'ha l'ansia. Grazie, Gualtiero. Prego. Caro Vittorio. Avvocato decorato, che piacere rivederla. Senta, per quei soldi che le devo ridare, ho trovato un lavoro. Nel giro di tre giorni gliele restituisco. Ma buo, ma buo, tu stai pensando i soldi adesso, non ti preoccupare. Dico, dimmi una cosa, piuttosto, eh. Amica tua? Chi? Gualtiero, il barman? Gualtiero? Ah, lei, sì, sì, sì. Perché? Di là c'è stato il grande produttore cinematografico, Fortunato Salvatore. La vuole conoscere. Fortunato, ma che fortuna, hai sentito? Brigitte, andiamo. Frangese? No, no, parla di latina. Andiamo, andiamo. Salvatore? Brigitte. Fortunato! Molto lieto. Fortunato sono io. Scusi. Accomodate, sedete qua vicino a me. Brava, brava. Brava. Che ci fai a Roma, tu? L'attrice, dottore, fa l'attrice, bravissima. Sì? L'attrice, veramente. Ma che brava, brava. Ma sai che è questa qua? L'aspirata te. Eh, no, no, lo sai. Questa qua è la sorella sputata di Penelope. Ma il copione non c'è però? Non c'è sta. E lo scrivi, sino a te che ti paga affare. Appunto, aggiunga questo ruolo. La sorella di Penelope. Ma chi è Penelope? La moglie del ciclope. Tu chi sei, tu chi sei? La gente, la gente. Sì, sono la gente. Senti, ecco, mi occupo dei suoi interessi. Dottore, le interessa? Come non mi interessa? Allora, mi raccomando, preparate il contratto, eh? Perché questa bella vogliono qua prende parte al mio prossimo film, il grande film. Maciste contro i proci. Strambe. Ma chi sono i proci? Lasciamo perdere. Certo. E senta, questa sorella di Penelope, com'è, è cattiva. Addio, è cattiva. È buona, è buona, è buona assai, è buonissima. Scusi, dottor, stiamo in mezzo di voi. Gordo Rex è non arrivato. Dice che ha firmato un altro contratto per la Spagna. Che ci ne importa? Quello, se non rispetti il contratto, noi lo uccidiamo per i danni, o no? Ma lei ancora non aveva firmato il contratto. Ah no? E perché? Che ne so, dice che era troppo caro. E certo, quello volevo pure il biglietto di prima classe. Hai capito, Gordo Rex? Eppure una diaria da 50 dollari al giorno. Ma questo è scema. Ma adesso non dove vado a trovare un'antromacista per lunedì. Questi sono i cavoli amari, eh? Eh, sono i cavoli amari, sì. Sì, ognuno ha i cavoli suoi, scusate. Perché? Vai, 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 Vittorio, vai, 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 vai. Benelo. Benelo, benelo. Benelo, benelo. Ma dove stai andando? Adesso io e te dobbiamo fare una chiaccarata. Santrone, non facciamoci prendere dal panico. che mi conoscono tutti. E c'ho un nome da difendere. Ah, sì? Allora andiamo a difenderti di cuore. Via. Scusa, dovrei andare un attimo al bagno. Te la fai addosso, te la fai. Già fatto. Santrone, fidati. Guarda, da oggi in poi, il 27 di ogni mese, mi ritrovo in tasca 10 bei bigliettoni da 10.000 lire cada uno. Tu sei bravo a parlare, ma io sono bravo a menare. Non mi interessano le tue chiacchiere. Io voglio i miei soldi e basta. Ti do due giorni di tempo. E poi ti vengo a cercare. E se non hai i baiocchi, ti spezzo tutte e due le gambine così. Trac, trac. Hai capito? Eh, ho capito. Crac, crac. No, è mio nipote che fa il pugilatore. Sembra un po' manesco, ma è un bravo ragazzo, un pezzo di pane. C'ha una bagnotta. Sgominate a Roma una banda di farzari? Sgominate a Roma una banda di farzari? Fammi un po' vedere. Ultime notizie? Ultime notizie? Sgominate a Roma una banda di farzari? Ultime notizie? Agabu. Eh? E i soldi? Eh, i soldi? Eh. E i soldi non ce l'ho, stiamo pace. Ciao caro. Hai capito, zitto zitto. Ultime notizie? Mmm, è stato scritto. Nado a Milano. La domanda è a posto. Il diploma l'hai portato? Eh, il diploma. È successa una cosa incredibile. Non si trova. Come non si trova? Sono andato a prove di torato. Sono andato alla mia vecchia scuola di Milano. Niente. Non si trova. Volatilizzato. C'è solo una spiegazione. L'hanno bombardato durante la guerra. Come sarebbe bombardato? Tu in che anno ti sei diplomato? Sarà stato il 45. Ma nel 45 la guerra era finita? Beh, sarà stato il 42-43. L'ultima bomba mi ha spappolato il diploma. E adesso come si fa? Senza diploma non ti posso assumere. Eh, assumeli. Se mi becca Sandrone, quelli sì che sono problemi. Chi è Sandrone? Crack, crack. Uno che se mi cucca mi spacca in due come un pezzo di pane. Una ciriola. Don Zeno mi ha detto cose splendide su di te, Marietto. Don Zeno è sempre troppo buono. Sarà comandato di darti gli indirizzi giusti e di tenerti lontano dalle tentazioni. Perché qui a Roma c'è tanta acqua santa, ma c'è anche tanto diavolo. Io ho sentito dire anche qualche diavola. Eh, purtroppo Roma è diventata una città di facce di costumi. Tipo bichini? Eh. Allora devo stare attento. Ecco, questa è la tuccelletta. Carina. Sembra la stanza della battefaria. Allora, Marietto, non si scena alle 5 in punto. Poi, due ore di resita del rosario. Sicché ci si corica alle 7. La mattina, piccola colazione alle 6 in punto. E poi, tre ore di meditazione religiosa. Ah, il programmino mi sembra fantastico. Però sa, io a Roma ho tantissimo da fare. E purtroppo mi sa che mi devo organizzare per conto mio. Anche per la meditazione, eh. Non mancherò. D'accordo, fra Marietto. No, veramente il signor Marietto. Ah già, scusami, Marietto. Ma hai una faccia così angelica e mi sono sbagliato. Caro il miserafino, ora tu lo vedi cosa ti combina questo faccino d'angelo. A noi diavole! E non sono io, sono i dati che stridano. Ma chi è lei? Sei illicido. Diamantinino aspirante socio? Signor Diamanti! Dica! Sono Procaccini, segretario del circolo. Papà c'ha la fama, una del fio? Veramente sono io. Ah, benissimo. La stavo aspettando. Prego, se mi vuole seguire. Senz'altro. Se le loro artezze consentono, giocate col morto? Il morto c'ha la chiusura a mano in chiude. Magari, la dattica. Prego. Senz'altro, dopo di lei. Non c'è più religione che ci tocca vedere in questi nobili saloni. Tutta colpa del boom economico. Sapete che vi dico? Si stava meglio quando si stava peggio. Due fiori. Cognome Diamanti. Nome Giovanni Dettonino. Solo Giovanni va benissimo. Nato col forci. Titolo nobiliare? Mancante. Allora metta un trattino. Si. Appartenenza ad altri circoli? Come no? Antico circolo da vaccinare, a testaccio. Lì veramente il socio era papà mio. Papà mio. Capisco, ma... Trattino? Titolo di studio? Quinta elementare. Fui strappato prestissimo dai banchi di scuola per affrontare la tua realtà della vita. A dodici anni mi incollavo, signor Diamanti. Trattino. Conoscenza delle lingue? Due! Italiano e romano. Scusi la curiosità, signor Diamanti, ma come mai ha deciso di iscriversi proprio in questo circolo? Per vendetta! C'era presente l'Era Conte del Monte Cristo? Comunque io la voglio mettere in guardia, perché qui è molto difficile venire accettate se non si ha un curriculum di tutto rispetto. E in che consisterebbe sto curriculum? In tutto quello che purtroppo lei non ha. Titolo nobiliare, titolo di studio, eccetera, eccetera. La ragione è, io sto dietro in cellulma, c'ho un sacco di sordi. Sto pieno come un uomo! E la vita mi ha imparato che con i soldi si può avere tutto. E qui più che i soldi contano le palle. Presenti. Vedi, il nostro sistema di voto prevede palle bianche e palle nere. Le palle bianche si danno agli aspiranti soci i graditi, le nere e non i graditi. E chi vota? L'assemblea dei soci. Ma quei quattro mummie che stanno da là? A ragione di ora c'è problema, perché questi se ne hanno tanti aereo. A me risulta che la maggior parte stanno pure con le pezze al culo. Per cui sa che ne dico, che queste palle non saranno bianche, ma bensì immacolate! Andiamo avanti. Sport e hobby per abigati. Hobby in che senso, scusi? Non so, equitazione, tennis, golf, bridge. Ma di che? Bosch e traversone, bassiche, 3-7 col morto. Che qui farebbe furore. Troppo... Trattino. La Gionia che dice? Tra noi, o sì. Stevane sanno, bianche. Troppi trattini, eh? Eh. Non poterà per papà mio, non chiaro. Allora, dammi la definizione scientifica di statistica. Papà! Dunque, si intende per statistica... Per statistica si intende quel me? Quel me? Quel metro... Papà! Metro e mezzo di... Ma quale metro e mezzo? Quel metodo di indagine induttiva che si applica allo studio quantitativo dei fenomeni collettivi! Eh, esatto! Ce l'avevo sulla punta della... La sapevo, eh, ma non riuscivo a... Ma va, guarda che se non studi il diploma col cavolo che te lo danno! Beh, beh, per favore, un po' di rispetto. È solo tuo padre. C'ho i capelli di oddi in testa. Su! Ma non si dice bianchi? Eh, beh, io li ho tinti. Quindi... Che ci fai qui? Che ci faccio qui? Sto aiutando, sto sommando a studiare. Se non gli do una mano io, quest'anno mi rimane bocciato. Ma se ha un'ottima pagella. Sì, ottima pagella. Io gli faccio le domande e lui invece di rispondere, pepepepe... Leggi giornalini, qui, Nembo Kids, Flas Gordon. Su, gli ho chiesto la definizione di statistica, non apro ferito verbo. Ma che cosa c'entra la statistica? Luca fa il classico. Ah beh, deve allargare un po' la sua cultura, no? Voi mi nascondete qualcosa. Scusa, scusami tanto. Non ti preoccupare, oramai con te sono abituato a prendermi le colpe, però adesso non cercare di perdere tempo e riapri il libro. Il libro? Ma sentiamo la televisione, c'è rintintin, dai! Ah va, ho capito, una partita a calcio balina, dai che ti batto. No, 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 no! Complimenti, eh, complimenti. Avete veramente della roba bellissima. Grazie. Ma per il nostro vescovo cosa ci consiglierebbe? Abbiamo molti vestiti da vescovo, anche piuttosto economici, altrimenti c'è questo, ma qui andiamo un po' più su con il prezzo. Ah, stupendo. No, 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 va bene questo, per carità. Noi al nostro vescovo ci teniamo molto, però mi sa che ha bisogno di qualche ritocchino. Sal, monsignore Polenta Usei è il va matto, eh? Lo aggiustiamo noi. Perfetto. Senta, e quanto ci vorrebbe per questi ritocchini? Ma diciamo un paio di giorni. Facciamo quattro, con comodo. L'importante è che il lavoro sia fatto a puntino, eh? Siamo dei professionisti. Anch'io sono del settore. Vorrà dire che ne approfitterò per visitare la città eterna. Ha degli amici qui a Roma? Sì, delle conoscenti, in via Veneto. Via Veneto? Delle pie signore, eh? Mi scusi, permetto un'informazione. Cercavo una sua collega, la signorina Luana. Signora Luana, per piacere, so io. Ah, è lei. Mi manda Luciano. Luciano chi? Luciano è il trapano. Il trapano? Ma come te permetti, ma vedi l'annatene. Lo sapevo, dovevo dirgli la puntina. Ma fatti, andate via! Lassatevi in pace! Ora chi è questa? Una nuova. Sbrigati, portami via! Pamela Brown, l'artista del cinema. Non ci credo. Che tocco! Parti! Dai, fai presto! Comandi! Pamela! Pamela Brown! L'ottostella! Sperma! Da non crederci. Pamela Brown in carne ed ossa. Oddio, più carne che ossa. Adesso giro a destra. Sì. No, a sinistra. Ma non si può, hai senso unico. Ma che ti importa, dai! Oh, Maria Vergine! Ci mancava solo la multa. Ora va sempre dritto. Mi scusi tanto, ma non sono molto pratico di Roma. Sai, io vengo da Treviso. Anzi, permette, mi presento. Marietto! Se non è troppo disturbo dopo, gradirei un fotografo con la dedica. Così quando torno, faccio morire di invidia agli amici del bar. Ora, fermati qui. Osteria che va... Ma dove va adesso? Pamela Brown! Pamela Brown! La borsetta! Quanto vende Dio! Ciò, sono in piena dolce vita! E io dovrei finire a fine mese. Scusami un secondo. No, dove stai andando? Ho detto che torno subito. Ma sei matta a venire qui? Non lo vedi che c'è mia moglie? Te l'ho detto mille volte, finché non parte non possiamo vederci. Non me ne frega niente di tua moglie. Oggi sul set non mi hai detto che le avresti parlato di noi due? Sì, ma non adesso. Le parlerò quando ho finito il film, quando sono rientrato a Los Angeles, ok? No, tu le devi parlare adesso, qui. Pamela, smettila! Lo sai che non posso permettermi uno scandalo, mi rovinerebbe la carriera. No, non smetto, io faccio quello che mi pare. Ok, fa come vuoi, ma ricordati che se continui a fare la matta tu non mi vedi più. Stronzo! Signora Pamela Brown, ha dimenticato questa immacina. Vieni un po' con me. Ma dove... Ti accompagno io. Fa bene, ho l'aereo all'unice. Oh, Sant'Antonio da Praga, lo che credo. Guarda, è completamente matta. Ma guarda, non ci posso prendere il pazzo, non c'entra niente. Spogliarsi così davanti a tutti. Incredibile. Bebby, Luciano, dove siete? Madonna. Troppo pizzicata. No! Ferma così, Pamela. No! Fate! No, fermo! No, no! Ancora una, grazie, ciao! Fermati, dammi un rullino! Ma venite, dannatene! Non so di rovinare! Va via! Aspetta! Tazzi! Pamela Brown, dove vai? Pamela Brown! Aveva ragione fra Serafino. Roma è piena di diavoli e di zoccole. A Giovanna è una che magna, ne avessero detto una parola. Pensa che fa a me. Anì, sono nobili. Non è buona creanza parlare mentre si magna? Ah no, invece è buona creanza annassero dove ho mangiato senza manco salutare come hanno fatto l'altra volta. A Giovanna è il sesto pranzo elettorale che faccio. Io me sono stufato. No, grazie, lo stufato non lo prendo, ho già esagerato. E te che con cui secondi ne sei mangiato otto palle le profitte no? Ma chi sei, Navarone, c'hai un cannone in corpo, ah? Nino, chi è a te? E ora che avete mangiato, mi fratello vi voleva fastire i galucci. Per lei, Marchese, una tabbacchiera d'argento, vero, costata ben cento mila lire. Sì, ma fitta che ringrazia, D'Annunzio. Per lei, Barone, una penna di platino, altra cento carte. Cento carte? Tre mesi di lavoro di un carpentiere? E per lei, Duca, un lingotto fermacarte d'oro massiccio, ben cento e trenta sacchi. E perché ha lui in oro? Perché lui è un Duca, lei è un semplice Barone, lui è più importante. Che sai che regano studiato? Però il voto del Duca vale quanto quello nostro. D'Annunzio, ma chi ti ha interrogato? Magna profiterò, sta a te sito, no? Comunque questi galucci non sono altro che un piccolo assaggio. Fatemi imboccare nel vostro circolo e vedrete che la mia genosità sarà molto, ma molto più magnanima. Piuttosto, come sto messo con queste votazioni? Beh, se non sbaglio, contando noi presenti, lei ha già manovrato la maggioranza dei soci. Resta l'unica incognita, il nostro presidente, il principe Savelli. Il principe dà palle neri a tutti. È un integralista. Se lui vota palla nera non c'è niente da fare, i nostri voti non contano. Come si può agganciare sto principe? È molto difficile che un plebeo lo possa agganciare. È uno snob tremendo, con una fortissima puzza sotto al naso. Mi piacciono i soldi? Penso di sì, ma disprezza i cafoni arricchiti, per cui, senza offesa, eh, ma a lei la vedo molto male. Ma ce l'avrà pure il punto debole, sto tornutaccio! Vino, chi è te? Ma non mi dà il mio nome, non mi dà il mio nome, c'erano dei cafoni e dei bolini a casa nostra! Se sono peccati i bolini legali! Bravo a sé, grazie. E mo' che è? Alessandra, ha organizzato una pesticciola. La pesticciola? Ma come? Io sto qui a lavorare per fare le pesticciola! E sto, ragazzi, lasciali divertiti! Ma che divertiti a chi? Mo' senti che stranita che io trovo! Con permesso! Che è sta cacciara? Ma che fai? Ma chi sei impazzito? Sono impazzito, sì! Improvvisamente! Fai la casa mia! Tu pure, ho quelle fratte sull'occhio! Via! Questa casa non è in paiva! Ma se mi avevi detto che per ascoltare la musica dovevo restare a casa? Certo, però mi è andata in giro di notte per i locali. Lei che fa? Si trattiene ancora molto? Papa, smettila. Io te mando nei migliori scuoli di Roma, sai? Dalle suore, frequentate da principesse, baronesse, contesse, il non presurto eterno bilio! E tu che mi porti dentro casa a sti quattro zazzoni? Non insultare i miei amici. Bell'amici che c'hai, bell'amici! Fanno bene le compagne tue che non ti invitano! Ma sta che me ne frega a me di quelle cretine con la puzza sotto al naso! Una volta siamo stati a una festa a casa di certi baroni, ballavano vecchio scarpone. In fronte, dono scarpone io! Qui, chi ho dato! A me mi fai l'amica con queste battutelle, sai? Anzi, lo sai che ti dico? Quando te vedo, mi ricordi tuo padre, no? E mi cominciano a girare. Archietto, se è per questo, anche quando vi vedo, sento una cosa... Che cosa hai detto? Lasciamo verde a sentire cosa ha detto. Mi è venuto a insultare, a offendere. Qui, in casa mia, abbiamo mancato di rispetto! Papà, ma non ti ha detto niente. Ma l'ho pensato, però. Io invece quello che penso di lui, lo dico e come? D'Amblais, in faccia, vis-à-vis, non mi piaci! Anzi, lo sai che ti dico? Si fa dieci secondi in se esciua da casa mia. Io vi ho queste forbici e te lo so come una pecora. Uno, due, ermagnone, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto e quattro, otto e mezzo, nove! Non ti fa più bene qui dentro che ti è scotendo, sai? E' vero che farà spia per tu, per te, sto grandissimo fio del amico. Ehi là, questi giovani, che si saranno messi in testa? Ma per fortuna ci siamo noi, Matusa, che abbiamo le palle! Purtroppo, quel tipo di palle al principe Savelli non interessano. Il principe lo chiamano palla nera! Buonasera! Da voi. Attenti ai regalini, eh? Buonasera. A Navarro, fate portare il prato stasera con quello che faceva niente. Che dici, Nì? C'è piano? Che to' ha da digio, ma? Stiamo nelle palle e nelle mani del principe. Riesco proprio a capire come abbia fatto il mio diploma a finire nella tipografia di quei falsari. E' proprio quello che le siamo venuti a chiedere, ragioniere. Ma io le ripeto che non mi sono accorto di niente. Oltretutto, in camera mia non faccio entrare mai nessuno. Ragioniere, scusi, è inutile che mi guarda, eh? A lei il diploma l'hanno rubato, il mio l'hanno bombardato. Chi sta peggio? Comunque la prego, mi seguo in quest'ora. Ma è il caso. L'ho sempre detto, sto ragioniere e in delinquente. Oh, buongiorno, signor Vittorio. Buongiorno, bella stevassa, come va? Bene. Si vede, si vede. Sai, se non fossi ancora innamorato di mia moglie ti farei una corte, ma una corte... un cortile. Marmellata di ciliegie? Ma sti taccani, quella dal bicocche, non la comprerò più. Eh no, se lei e la signorina Laura, prima non vi pagate i miei ritrati, non comprerò più neanche il burro, lo zucchero e le postine di tè. Ma a me il tè non piace. Mi agita, mi agita molto. Mi dispiace, signora Silvana, per il ritardo, ma oggi, se va tutto bene, filmo il contratto per un film. Davvero? E non mi dici niente? Iisera il produttore Fortunato mi ha invitato a cena per raccontarmi della parte. E che ti ha raccontato l'analfabeta? Eh beh, più che altro ha mimato con le mani. Ha mimato con le mani? Eh, ho capito, ti ha messo le mani addosso, ti ha ravanato. Un pochino. Lui voleva farmi il provino in albergo, ma io non ci sono andata. Brava, ricordati, regola numero uno, se tu gliela dai, poi lui non ti dà la parte. Regola numero due, quando lui ti dà la parte, poi tu gliela dai. This is Hollywood. Traduco, questa è Cinecittà, te lo dice il tuo agente. E quando lo deve firmare questo contratto, signorina? Oggi ho l'appuntamento con il produttore alle undici, mi avvene dal Bardonei. Se ho capito bene, lei li fa da gente. Esatto, sono io che l'ho lanciata nel magico mondo del cinema. E allora la compagna a firmare questo contratto, così lei prende l'anticipo, lei la percentuale, e io invece metto tutto all'incasso. Sì. Così la marmellata di albicocca ritornerà come per incanto. Signora Silvana, scusi una cosa, ma lei è ragioniera? Deve essere perdito chimico. Ma non ho capito una cosa del copione. Ma i proci, a Penelope, se la fottono o no? Certo che no. Come no? Il tema di Penelope è la tela, di giorno alla testa e di notte alla dispa. Eh sì, Penelope va tutta la notte per venti anni senza mai fare l'amore a sfasciare la tela in continuazione. Ma chi ti crede? Ma che sai scrivere tu? Ma fammi piacere, abba pazienza. Tu sei un bisce inchiostro, questa è la verità. Ma dimmi una cosa, come si chiama questo figlio di Ulisse? Telemaco. E non è possibile, lo facciamo diventare femmine, così i proci si fottono pure a lui, in modo che quando mi c'è sto d'ora il fiato del miccio, capisci la cosa, mangia la foglia, capisci? Interviene e c'è un motivo in più per fare una strage, mazzata, c'è c'è c'è, capito? Io no, io già mi vedo la scena fra... Ulala, lupus in fabbrica, la sorella di Panela, guarda, guarda, guarda. Buongiorno, comendatore. Comendatore, ma che comendatore? Ieri sera ti ho detto che mi devi dare del tu. Ma sì. Come le coppie che so, Loren Ponti, che laurenti smangano, mica si danno del lei, si danno del tu, come la coppia Fortunato Buzziconi. Signor Vittorio, non mi piace Buzziconi. Ah, non ti piace Buzziconi? Eh, lo cambiamo, Cartier. Ti chiamerò Brigitte Cartier. E tu chi sei, tu, chi sei? Come chi sono, dottore? Non mi riconosce. Sono quello che gliel'ha presentato, il suo agente. Sono venuto per la firma del contratto, una formalità. Che contratto? Ma che contratto? Purtroppo io non tengo più neanche il mio protagonista, magiste. Ti ho beccato, eh? È scaduto il termine, sono venuto a riscuotere, sono venuto. Ma è lui! È certo che è lui. È un attore della mia scuderia, grande attore, Sandroni, in arte Kirk Newman, bel nome. Ma cosa stai dicendo, Patek? Lo scusi, c'è qualche problema con l'addizione, ma poi lo doppiamo. Si capisce, bravo, bravo, bravissimo. Bravo il mio? Vittorio, Vittorio Ferrari, per servirla. Adesso fermiamo subito il contratto. E i contratti? Brava, mi fa anche da segretaria. Eccolo qua. Incontrati sul tovagliolo. Si capisce. Dottore, meno male non ci siamo incontrati al bagno. Comunque, questo è come un contratto perché sotto ci sta la mia firma. Salvatore Fortunato, ecco qua. Guardi, lei sarà anche fortunato, ma io no. Ci servirebbe un acconto. Cosa vuole? Sandrone, Kirk Newman, se non mangia, mi si sgonfia. Non lo facciamo scompiare, per il mo' di Dio. Ecco qua, vediamo un po'. Bastano 30? Sì, sì, vanno benissimo, grazie. Oltre che essere fortunato, lei è anche Salvatore. Ecco, questo a te e questo a te. E questa è la mia percentuale. Ringraziamo il comendatore. Grazie, comendatore. Grazie. E le altre 90.000? Appena cominci a recitare. Ma come recitare? Non capisco. Sandrone, sei stato baciato dalla fortuna. Grazie a Vittoriocio tuo, stai per diventare una star del cinema. Ma quale star, star? Io te maffermo così. Ah, bello, guarda che posa, guarda che posa. Neanche a farlo apposta, con questa posa qua ci facciamo il manifesto, bello. Vedi, vedi, Kirk? Questo bel testo finirà fisso su tutti i muri d'Italia. Buongiorno, Assessore. Buongiorno, prego. Ecco, questo è il terreno di cui le parlavo. È mastodontico, eh? E oggi lei lo compra come se fosse un pascolo. Poi lei me lo approva come il terreno edificabile. Io ci costruisco a valanga e rivendiamo a centavolte il costo, è vero? Bravo, però prima devi presentare i progetti. No, prima mi devo sbrigare a comprarmelo. Sa mica di chi è? Del principe Savelli. Del palla nera. Del palla chi? No, niente, è una cosa mia. Ho trovato il punto debole del nobilone. Che è la marana quella? È un vecchio terreno di famiglia. Sì, è un dono di Papa Clemente XIV al mio trisavolo. Hai capito, il Papa si chiede i cali, eh? C'è sempre da imparare, principe. Ma a me perché le interessa il mio terreno? Me lo vorrebbe comprare. Lei? Io sì. Mi chiamo Diamanti, faccio il costruttore. Non so se ha mai sentito questo nome, Diamanti. No, veramente no. Comunque quel terreno non è edificabile perché altrimenti l'avrei venduto anch'io, cara signor Gioielli. Diamanti, principe, Diamanti. Ho fatto anche una domandina per entrare al suo circolo. Davvero? Sì, è per questo che mi voglio comprare il terreno, così lei mi dà palla bianca per potervi ci imboccare. Mi vuole corrompere? Comunque guardi che per quel terreno, come minimo, minimo, chiedo 20 milioni. E ne do 50 io? 50 milioni. 50 milioni per una palla bianca, principe. Purtroppo c'è un problema. Annaccia. Ah, su quel terreno grava. Un sequestro dell'ufficio imposte. Un sequestro sul terreno del Papa. A principe, ci è segreti? Ah, purtroppo sì. E oltretutto la pratica in mano è un ispettore delle tasse terribile. Un mastino napoletano. Ha detto napoletano? Sì. Ma per caso si chiama D'Alessio? Sì. Non c'è problema. Ci sto così, siamo mezzi parenti. Vado, lo convinco e torno. Preparare la compromessa, principe. Papà, ma come mai hai cambiato idea? Davvero vuoi che studi con Luigi? E perché no? Basta che me studi, fia mia. E poi ce l'hai fettuto bene, sai? E se D'Alessio è un fondo su delle brave persone, eh? Ma i pasticcini per chi sono? Per il papà, ho saputo che non sta bene. Approfitto per fargli una visibile. È qua? Sì, sì. Che piano è? All'ultimo. Oddio. Però non c'è l'ascensore. Manco? Ma un ragazzo appena delante piace a papà? No. A me facendo. Besta. Ciao, Ale. Eccoci qua. Architetto, vi assicuro che l'idea di studiare insieme non è stata mia, ma di Alessandro, eh? Tranquillo. Sono stato io a suggerire l'idea alla mia bambina. Voi, architetto? Eh sì, è scoppiata la pace. E speriamo che sia duratura, eh? Dov'è il papà? Manca un presentino per lui. È a letto malato. Grave? Influenza. Allora può guarire. Buongiorno! Oh, madonna mia! Mamma mia che pussa qui dentro! Oh, aria, aria, aria! Abbiamo le finestre! Ma che stiavanti? Che cosa fa? Chiudagli, così mi busco una polmonita. Questa stanza è un copo di microbi, dottore. Sono microbi miei e a lei non la riguardano, capito? Avanti. Che cosa è venuta a fare qua a casa mia? Al suo ufficio mi hanno detto che lei non stava bene, mi sono preoccupato per la sua salute e sono voluto a trovare, l'ho portato anche dei dolcetti. Non mi piacciono. Stai sentì? Fermo. Ah, ma se è vero. Fermo con le mani. Sì, non mi fa una cortesia. Mi dico presto, presto, che cosa vuol essere male. Sono qui a speronare la causa di un altro povero tartassato come me. L'ennesima sua vittima, dottor D'Alessio. Ma non le bastava speronare per i guai suoi, no? Ma ho vogliato. Avanti, presto presto, di chi si tratta, su? Del principe Savelli. Una nobile persona, sa? Savelli? Una nobile persona, quella è un digno compare suo, quella fra l'altro viene meno il fisco di 50 milioni. Hai capito l'impassamato? Dove per diabo te, abbiamo bene, sputti il rospo, che cosa vuole da me? Ecco, vedi, il principe Savelli sarebbe proprietario di un lotto sull'anomentana che mi interesse molto. Quell'otto è sequestrato. E se questo c'è esecutivo? No, la firma non l'ho potuta mettere perché sto qua a letto con la febbre qui. Eh, ma non ho un problema. Che cosa? È tutto a posto. Tiè, mangia da sto cannolo, vai. E si prendiamo. Ma è tutto un cannolo, un momento, ma è tutto un cannolo. Madonna, che cagoccio, che è a posto? Che cos'è che è tutto a posto? Che cos'è? Io do 50 mila al principe, eh? E mi compro il treno. E il principe con le sordi mia paga le tasse e siamo amici più di prima. Ma quando mai io e lei ci siamo voluti bene così? Ma col cavolo, col cavolo che io avallo questo imbronio. Anzi, sai che cosa c'è di nuovo? Io guarisco, vado in ufficio, metto la firma, per il sequestro metto la firma. Ah sì? Secondo me lei in quelle condizioni non arriva manca a sta porta. Ah sì? Fuori, iettatore, vattene, 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 vattene. Iettatore io, iettatore lei, che mi sta sempre in mezzo ai piedi quando credevo da fare affaretti, eh? Fuori! Sì, me ne vado! Se no qui dentro con l'aria che tira brutta, meglio pure la malaria! A me mi dispiace per la malaria, fuori! E mangiate quelle pasta, nella morta te fa, ma non vedi che colore che c'hai? Alessandra, andiamo via! Ah, ma sto studiando. Cocchi, con quel somaro, così te bocciano un'altra volta. Via, forza! Al chiede, ma non era scoppiata la pace? La bire me sta a scoppiare. Andiamo via! Che da questo momento ti rinunibisco formalmente! Di frequentare questa casa di invidiosi! Fuori! Fuori, se no quando è per Dio chiamo la polizia! Fuori, fuori, fuori! L'ufficio del genere vi chiamano, eh? No, no, no. C'è risorsica la vascaina sotto a me. Che risate! Riti, riti, rinciamo anche il fiato per respirare, porta d'ossigeno! Ehi! Permesso? Papà, sei sempre in ritardo! Io stasera vado a giocare a calcio con gli amici e adesso abbiamo solo un'ora di tempo per studiare. Luca, da oggi papà non studia più! Come non studi più? Sono lucido di entrare nel magico mondo del cinema. Ho già due contratti. Ma che fai, l'attore? No, io gli attori li fabbrico, scopro le facce, fiuto i talenti e poi trac, li lancio sullo schermo. No, questo è il telegiornale. Senti, stavo pensando per la mamma un ruolo, che so, alla Grace Kelly, perché lei è bella, alta, bionda, dolce come il mio... Vittorio, ascoltami, mi ha appena telefonato la moglie del dottor Locurto, ricordi, quello della cassa del mezzogiorno. Dice che non ti ha più sentito. Vuol dire che ho trovato qualcosa di meglio, molto meglio. Se i miei calcoli sono esatti, nel giro di tre mesi siamo tutti ad abitare di nuovo insieme in un bell'attico su Piazza di Spagna. Contenta. Adesso mi hai stufato, Vittorio. Ogni volta che io ti trovo un lavoro sicuro, tu rovini sempre tutto. Ne ho abbastanza. Sono stanca. Che bel temperamento, eh. Più che Grace Kelly mi ricorda Tina Pica. Mi sono stufata. Mi sono stufata. Peppino, andiamo. Vado a vedere come butta Piazza Ravone e fai il ritorno, eh. Va bene. Ok, ciao Pino. Oh, diavolo di un paparazzo. Finalmente ti ho trovato. Dammi le foto. Ma quali foto? Ma chi sei? Ma chi te conosci? Sono quello dell'altra sera al night con la Pamela Brown. Non ti ricordi? Ma Mestino, chi te riconosceva? Senti, invece di fare lo spiritoso, dammi le foto, ti prego. Se ne esce qualcuna, mia moglie, la me taglia. Sono un uomo morto, capisci? E che te posso fare, figlio? Che te posso fare? Ascolta, sono disposto a spendere qualsiasi cifra. Dicimila, eh? Ma di chi? Venti mila, come la Luana. Ui, Venezia. Previso, prego. Vabbè, stessa cosa. Guarda che periodo è qui, Foton. Ti abbasta un milione. Un milione? Un milione per una mia foto. Ma non sono mica Little Tony. No, tu non sei Little Tony. Ma Pamela è richiestissima. Porca suzza. Ebbè, effettivamente, un po' porca, mi sono accorto anch'io che la ragazza... Bella Brown e Robert Fenton. Ma allora è vero che quei due stanno insieme. Ma porca miseriaccia, si è diffusa, me li sono fatti scappassotto al naso. E non c'ho manco l'espa. Paparasso, la vedi la 1008 posteggiata lì? Beh, è la mia. No, amo. No, fermo. Che? Pategiamo. Che? Se tu mi dai le foto, io ti accompagno nel seguimento. Te le ridò le foto? No, prima le foto. Ma te le do le foto, due, che me ne frega. Si pizzico quei due, divento milionario. Metti in moto, rapido. Paparasso, dai, traviso. Purtroppo con il mastino non c'è stato niente da fare. Ma non mi ha detto che eravate mezzi parenti? Parenti serpenti? Per una soluzione ce l'avrei lo stesso. Sentiamo. Io le do 100 milioni. Sì. Con 50 milioni lei paga le tasse. Vi sequestriamo il terreno e con l'arte 50 me lo compro io. Beh, per me si può fare, Gionielli. Diamanti, principe, diamanti. Tra l'altro io avrei già, come dire, prelevato la cifra, principe. Se lui gli dispiace. Oh no, no. Ma si figuri. Ecco qua, 100 milioni in banconoti da 10 mila. Però mi raccomando, principe, eh? La palla deve da essere bianca! Sarà più bianca del bianco. Domande le restituisco la valigetta. Ma per carità, se la tenca, se la tenca come mio regalo. Guardi, ci sono anche le mie iniziali, diamanti e nino, in oro. Beh, allora, allora facciamo una ricevutina. A questo proposito avrei preparato un contrattino. Semplice, semplice. Oh, ho dimenticato gli occhiali. E che problema c'è? Se la legga dopo, con comodo, anche domani, può firmare anche domani. Principe, fra gentiluomini, non c'è problema. E soprattutto, fra consaci non c'è problema. Ah, non è fatta! Ci vediamo domani a circolo per le votazioni, caro gioielli. Diamanti, principe, diamanti, fa lo stesso. Ah, ti piacciono i sordi, sorcio, eh? Prego. No, niente, è una cosa mia, internobis. Un esordo sei oltre che il ciecato. Beccati, ecco la macchina di Robert. Ci avrei giurato che venivano qua. Questo è un classico dell'infratto. E allora? È solo che a me non mi fanno entrare, mi conoscono. Vabbè, falle te le fotografie. Ma sei matto? Ma che te costa? Che problema c'è? Io? Se state là nascondi, la macchina fotografica è sotto la giacca. Ti metti là tranquillo. Quando vedi che i piccioncini arrivano all'effusione, estrai la macchina e spari a raffica. Ta 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 ta. Come Gianni Morandi. Chi è qua? Buonasera, signore. Buonasera. Cosa mi consiglia? Pene all'arrabbiata. Non troppo arrabbiata. Oggi, nella scena d'amore, sei stato fantastico. Già, il regista mi ha fatto i complimenti per come è venuta vera tutta la sequenza. Domani, nella scena del ballo, vedrai come ti faccio eccitare. Ti prego, non esagerare. Il regista è amico di mia moglie. Se se ne accorge, io passo dei guai. Che pizza questa moglie. La vuoi smettere di bere? Io le odio, le donne ubriache. Sai che ti dico? Allora, tornatene da tua moglie. Ma sei l'incapace. Dovevi scattare quando hai visto che gli avvi la varvino faccia, no? E vabbè, ma tu mi avevi detto quando si baciavano. Quelli sembravano cane e gatto. Lasciamo verde, guarda. Mondo su a nati. Sulla spiaggia. Però lui era arrabbiatissimo. Più delle penne che fanno qua. Vabbè, va bene comunque, perché può finire schiaffi. È già un bel servizio. Oppure fanno pace e magari concludono a quel punto sbortato. Da madre. Namo, che sta a fa' qui? Namo, treviso! Dai, smettila di piangere, ti prego. E a te che te ne importa? Vattene via! Sono sei settimane che gli è davo la caccia. Il mio fiuto non sbaglia mai. Come tenente scerida. Va meglio. Sì. Gli si basa! E vai! Vacca boia, che forte! Grazie, Gari, eh! Valedizione! Sei stata tu a organizzare tutto questo per farti pubblicità! Ma che cosa dici? Sta zitto, almeno! Voglio, Roberto, varendo, varendo! T'ho detto varendo! Piano! Costa sta roba! Che sarà la foto? Nessuno mi vuole bene! Ma no! Nessuno mi ama! Ma faccio cosi schifo! Ma no, cara signorina Pamela Brown! Le assicuro che lei non fa affatto schifo! Averghen! Ma questo corpo è da buttare! Casomai lo butti qua che lo ciappo mi! As è più buona della scena! Ma no! Pamela! Cosa fa? Torni qua! Pamela! Oh, Madonna! Oddio la Senega! Ferma, ferma che arrivo! Non sta a muoverte! Ferma, ferma! Eccomi, eccomi! Ma guarda qua! Tutto su come vende Dio a mollo! Ecco! Oh, Madonna! Che... Che tanto! Oddio! Aspetta! Te salvo mi! Vino! Ma cosa fai? Meglio di niente! Ciao, treviso! Ti ho alto un can! Tu uccidi un uomo morto! E va bene! Ben alzato, marietto! Ah, stavo uscendo di buon'ora e non volevo disturbare voi fratelli! Sei sempre così delicato! Tieni! Questo è un pacco che ha portato un signore ieri sera per te! Ah, grazie! Il vestito del vescovo! Ecco! Così puoi tornare a casa e abbracciare la tua moglie! Sei contento, eh? Eh, quella più che abbracciarmi mi strangola! Buongiorno! Buongiorno! Salve! Ben tornato, dottor D'Alessio! Novità? Proprio questa mattina abbiamo ricevuto informazioni riservate da una nostra talpa! Pare che l'accertato Diamantinino ieri abbia effettuato un prelievo molto consistente! Ah! Cento milioni! Alla faccia mia! Cento milioni! Tenetelo d'occhio! Vi prego, ragazzi, tenetelo d'occhio perché quando è veridio! Questa è la volta buona che io a Diamantinino l'ho fotto! No, io l'ho fotto questa volta! E poi vediamo se non l'ho fotto! L'ho strafotto! Ma che c'hai? Niente! Perché per le vacanze non puoi venire a Ischia! Io ci ho provato, però quando papà ha saputo che veniva a stare da te, è andato su tutte le fori e mi vuole mandare in collegio! Una volta tanto che potevamo stare insieme dieci giorni! Non ti preoccupare, che insieme ci siamo lo stesso! Sì, e come? Approfittiamo della gita scolastica che devo fare! Dieci giorni a scena in Svizzera! Tutti prendono la stanza in un albergo vicino al nostro e così possiamo stare sempre insieme! Sì, ma se non tengo una lira, come la piglio sta stanza? I soldi non sono il problema! E questo chi te l'ha dato? L'ho preso nel cassetto di papà! E se se ne accorge? Ma figurati, c'è un'altra cinquanta! Bravissima, le sa! Sei un genio! Ci facciamo le vacanze tutti spesate! Architetto di Amatta, mi ha fatto festa una volta! Bella! Proci, giù le mani da quella donna! Sono maciste! Sono maciste! Laverò nel sangue... Laverò nel sangue... L'offesa che avete fatto a Ulisse! L'offesa che avete fatto a Ulisse! Oh, mitico maciste! Liberami da questi marrani! Dottore, lo sente? Che dialogo cazzuto! Bravo, bravo! Veramente hai fatto un cavolavoro! Sono sicuro che la gente al cinema caccia i fazzoletti! Sa come piance la gente quando vede questo film? Bella! La mia spada ha sete di vendetta! La mia spada ha sete di vendetta! Adesso vai verso di loro, li trafiggi uno dopo l'altro! Adesso vai verso di loro e li trafiggi uno dopo l'altro! Stop! Ma che cacchio dice questo? Dove l'avete preso sto cagnaccio? È un attore preso dalla strada! Rimandatecelo! Calma, calma, bella, calma, calma! Ti voglio solamente ricordare che De Sica, con gli attori presi dalla strada, ci ha vinto un Oscar! Sfotti! Ma sei tu che non c'è a dirigere? Sei fu un regista, fa! Ma questa scena l'abbiamo ripetuta 62 volte! 63, tu tu? Pausa, pausa, tutti pausa! E tu? Tu ripassa le battute, imbranato! Ma io quello lì lo faccio! Ma dove vai? Ma vieni qua! Ma è da stamattina che mi offendo quel regista lì! Ma c'è ragione lui, scusa! Tu sei Kirk Newman! Sei il protagonista di un grande colosso in costume, vero? E mi fai fare queste brutte figure qui, di fronte a Cinecittà! Sandrone, il cinema ci guarda! Ma io con tutte le battute mi confondo! E ti confondi perché non sei concentrato! Fai una cosa, fai finta di essere a scuola, quando recitavi la poesia alla tua maestra, eh! Ma quando ero a scuola anche la maestra mi insultava! Eh, l'ho capito, per forza, per te la parola recitazione fa rima con negazione! E io come sono andata? Bravissima! Uguale, uguale a Elizabeth Taylor! Brava, brava! Brava la mia Lauretta! Quest'anno il naso d'argento non te lo toglie nessuno! Comendatore, buono con le mani! Lauret, dopo questo po' di contratto che ti ho fatto, fai porla schizzinosa! Lauret, c'ha ragione il Comendatore! Regola numero due, una volta firmato il contratto bisogna essere disponibili, molto disponibili! Prego! Dicami, vieni, vieni! Vieni, scusa, vieni, vieni! Senti Vito, ma parliamoci già, questo tuo maciste ci sta facendo sprecare un sacco di pellicola! Eh, lo so, è un po' acervo, eh! Ma si farà, eh, si farà! Lo sto inquadrando! E penso che appena avrà terminato questo periodo di nodaggio, guardi, le farà un maciste meglio di stirruirsi! Bene, bene! Scusi, Comendatore, se vuoi l'importuno un attimo, ma... Da quando abbiamo iniziato le riprese, i miei rappresentati qua non hanno beccato ancora ma anche una rata del contratto! Ah, 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 e che fai, Vito, e che fai? Non ti fidi del grande Salvatore Fortunato? Io adesso, voglio, ho girato più di 200 film, io sono una colonna del cinema italiano! Un capitello, per carità! Però, maciste, Kirk Neumann, non riesce a recitare perché è una settimana che non mangia! Grande e grosso com'è, se non gli diamo un po' di biada, pa, gli viene uno sciopone! Eh, vabbè, diamoci questi, diamo... Eh, glieli do io, glieli do io! Senta, Comendatore, io avrei portato alcune foto tratte dall'album dei miei puledri della mia scuderia! Cavalli? No, attori, puro sangue! Guardi, guardi questo, guardi che meraviglia, guardi! Doria Andrei, grande attrice di teatro, io la vedrei bene per un ruolo aristocratico, che so, la moglie del re! Io la vedo bene nel ruolo dell'ex mignotta! E c'ha ragione! Come sarebbe? No, dico, c'ha ragione perché una grande attrice potrebbe fare un sacco di ruoli! Ma guardi questo, guardi! Armand Kelly! Inglese? No, Chivasso, fa il caratterista! E costa caro questo qua! Comendatore, pur di fare un film con lei, questo qua lavorerebbe anche per un piatto di lenticchie! Ma perché muore di fame? Alle ore contate! È un caso pietoso! Non faccia così, Comendatore! Non faccia così! Scusi! Allora? Bocciato! Ma come è bocciato? Con tutti i risordi che ho speso per comprarmi la maggioranza dei voti! Non c'è stato niente da fare! Il principe Savelli ha votato a palla nera! Proprio lui! Sto morto da fame! Io ho dato pure i sordi per pagare i buffi con le tasse! Ma a moglie ne dico quattro io! È inutile cercarlo, è assente! Come assente? E allora come ha fatto a votare a palla nera? Ha dato dei leghi a me! Dicendo palla nera tutta la vita! Mi dispiace! Non ti preoccupare! Comunque stai molto attento perché se viene la finanza qui, ti carcera! E per chi? Te viene a pentombarolo! Tieni che sì! Compiace il monopoli, eh! Mi dispiace! Il principe non c'è! Stamme bene a sentire! Io devo parlare immediatamente col principale tuo! E mo ne vedete mezzo se non faccio un casino io! Principe! Principe! Aldo là! Che vuoi fare? Sappia che in questo palazzo brucia ancora l'onta della breccia di Portapia! Se fa un passo di più la spazio! Abbi il crimine! Stamme bene a sentire! Un mio bisnonno è stato un luogo tenente della marmola! Per cui leva sto pezzo! Se no abbi ce la faccio io mezza a fronte! Che c'è pure spazio lì! Ando a starto principe! Principe! Ho avuto ordini precisi di non rispondere! Ah sì? Proviamo in quest'altra maniera allora! Guarda un po' se ti ricordi! Ha preso il treno delle 11 e 17 per Lucano Svizzera! Unica fermata a Milano! Destinazione banca UBS via Guglielmo Hotel 8! Abbi il crimine parli poco ma quando parli un altro po' mi dice qui il nome del capo stazione! Anselmo! E' nostro è là! E' sempre a dormire stai? Ma no! Il principe è scappato con i sordi mia! E' nato in Svizzera e io lo nascondo è là! Dobbiamo salire immediatamente sul suo treno! Andove? A Milano! E' a Milano! A Milano sì che è? Che so' sordi tua! Cammina da colla! Da colla! Da serpa risponde vai! Da colla! Da colla! Presto, seguiamolo! Vai! Vai! Soldi! Soldi, soldi, soldi! Tanti soldi! Che tanti soldi vive come un pascià! E adesso in Svizzera se ne va! Oddio! Oddio! Soldi, 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 tanti soldi! Permesso, grazie! Su ragazzi a letto e spegnete subito la luce! Ma Sir Paola siamo in vacanza! Vacanza? Ma quale vacanza? Su, su a letto dormire! Oh, eh! Non mi fate saltare la mosca al naso, eh! Buonanotte! Buonanotte! Vicino, via libera! L'abbiamo fregata la monaca di Monza, eh! Beh, veramente, Sir Paola di vicino Dodi! Tieni! Oh, grazie! Deve una fammi incredibile! Certo che voi due siete proprio matti! Se vi scoprono i vostri genitori! Sinceramente, a me dei miei genitori non mi hanno porto proprio! Neanche a me! Beati voi, siete proprio coraggiosi! Mi piacerebbe vivere una storia così! Puoi farlo anche tu, basta deciderlo! Hai proprio ragione! Non se ne può più di questi genitori che decidono sempre per noi! Allora fatelo, fatelo tutte! Quando tornate a Roma, parlate con i vostri ragazzi e mettetevi d'accordo per fregargli quei rimbambiti inimatusa! Esatto! Direttore, c'è un altro prelato che vuole parlare con lei! Un altro prelato? Eh sì! Lo faccio entrare! Prego, Monsignore, si accomodi! Sia lodato Gesù Cristo! Sempre sia lodato! Questo giornale è pieno di farina del diavolo! Però... Eminenza, il nostro è un mestiere difficile, sempre a contatto con bugie e verità! Lo so, lo so! Birichini, anche noi leggiamo! Eminenza, a che cosa devo la sua visita? Sappiamo che il vostro giornale è venuto in possesso di alcune, chiamiamole così, fotografie? Che fotografie? Di una pecorella smarita! Un mio sacerdote che purtroppo è caduto tra le spire di Satana! Oddio! Appunto, in alto, molto in alto, sarebbe gradito che il tutto venisse messo a tacere, è vero, figliolo? In alto? Di più! Eccolo qua! E' lui! La pecorella smarrita! Mi perdoni, Eminenza, ma... La pecorella... E... Son me? Ma non son me! No, mi scusi, Eminenza, ma è proprio lei! C'ha anche i baffi! Ah, un peccatuccio di vanità! E poi cosa vuole, direttore? La carne è debole! Eh, lo vedo! Prima il night, poi la spiaggia! Neanche Walter Chiari! Le tentazioni non guardano in faccia a nessuno, Satana voleva rubarmi l'anima, ma per fortuna un angelo direttore mi verrà in aiuto, dico bene? E va bene, ecco le foto e i negativi. Grazie. Mi raccomando, parli bene di noi, in alto. Non mancherò, e si ricordi, son me, ma non son me. St. Vittorio, scusi, ma io devo fare la parte della meredtrice. Ma sei una parte eccezionale, dico sono tre pose. Un giorno la cava, due giorni al bordello. Lei danno 25 mila di raposa e in totale fa 75 mila. Guarda caso, è giusto, giusto il debito che le dovevo da un anno. Eh no, cocco, io gli do solo la percentuale che le aspetta come agente. Il resto me lo tengo io. Lo sapevo, lei è ragioniera, molto ragioniera. Ragionirmi le schincheri, come va? E come va, come va? Ma come faccio io a stare tutto il giorno con questa corazza addosso? Peso una tonnellata. Senta, oh, scusi, intanto dovrebbe essere contento. C'ha un costumino che è una meraviglia. E tutta roba eccezionale, guarda, queste sono mica setole, sono i capelli di Milva. E poi scusi, per l'arte bisogna un po' soffrire. E vabbè. Senta Ferrari. Sì. E il cestino, quando è che lo portano? Me ne schincheri, è le nove del mattino, lei già mi chiede del cestino, ma insomma. Eh ma io sono qui dalle cinque meno un quarto. Non ho potuto neanche fare colazione. Venga. Chi è? Si prende il mio vornetto. Grazie, Fala, che gentile, mi tiene la lancia. Grazie. Sa chi è? È Luca, mio figlio, un ragazzo eccezionale, tutto il papà c'è un cuore così. È bravo, signor Vittorio. Gli fa fare l'attore anche a lui? Magari. Ma magari cosa che devi studiare? Su, il cinema, il cinema lo fa papà. Tu casomai farai la radio. Signorina Laura, ma che è impazzita? Ma cosa fa? Cosa fa? Stiamo girando, scusi. Ripasso la parte. A me sembra che sia lui che ti sta ripassando la parte. Su, se ti becca il Comandatore Fortunato, ti prende, ti dà un caccio nel sedere, ti rimanda a fare la manicure lì a Latina. E stop, stop, stop. Basta, mi hai rotto le scatole, cagnaccio. Sei, sei un deficiente. Un cretino. È un pazzo, è un pazzo. Ma che è stato? Che è successo? Ma cosa vi credete voi del cinema? Io adesso vi ammazzo tutti, vi ammazzo. No, no, ma ci sono pazzo. Ma cosa fa? Ma che sei impazzito? Mi hai fatto cascare il cornetto. Me ne vado. Ma non te ne puoi andare, Sandro, l'hai firmato un contratto. Ma me ne frego del contratto. Cercatevi un altro di maciste. E tu, ricordati che mi devi ancora 90.000 lire. No, 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 no. Comandatore, mi scusi. Purtroppo sono piccoli caprici da divo. Adesso vado lì e sistemo tutto. Ma che sistema? Mi dobbiamo sistemare a te. Tu mi hai rovinato, mi hai inguaiato. Comandatore, non faccia così. Mi dia qualche giorno e le trovo un altro bestione. No, 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 tu col cinema hai chiuso. E non solo non ti do neanche una lina, ma dici tu pure per i danni. E ti faccio vedere chi è, Salvatore Fortunato. E' finita, è finita. Sei licenziata, sei brava, ma sei licenziata. Papà, cassa del mezzogiorno. Da oggi ricominciamo a studiare. Vabbè, per statistica si intende la materia che studia il metro... Metodo. Metodo. È ostica, la statistica è ostica. Senta, Ferrari. Sì? Ma ci sono notizie del mio cestino. Ragionermene schincheri, il film è finito. Che qualcuno c'ha una sigaretta? Biglietti, prego. Anzi, c'ha dei bietti. Ma quali bietti che siamo venuti in macchina? Come in macchina? Eh, siamo salivi sul treno a Milano. Sì, perché stiamo seguendo un sorcio che ci ha fregati i sordi. A me non interessa. Se non avete il biglietto, dovete pagare la multa. Ah, yeah. Scusi, manca molto, ma arriva in Svizzera. Dieci minuti, siamo in anticipo. Pure! Potrebbe stringere, io sono abbinato, sa? Iso, via se. Ecelloni. Prepariva? Quanto è, scusi? Cinque mila lire più dieci mila lire di multa. Ciao a voi. Presto scappiamo, che c'è mio padre. Porta miseria, è finito il treno. Dica. Scusi, dove sta il principe Savelli? Principe Savelli, nella cabina 1. Che siete? Che volete? La prego, ci aiuti. C'è il mio padre che ci sta cercando. Per piacere, se ci trova ci ammazza. Fuori, fuori, fuori. Io c'ho altre cose da pensare. Fuori, fuori. Immediatamente fuori. Alessandra. Luigi. Papà, ti posso spiegare tutto. Con voi fammi i conti dopo. Con te invece, principe, so, dali fammo subito. Questa la prendo io. Alessio. Sorpresa. Papà. Ah, tu dovevi andare a Ischia. Conti, i conti li facciamo dopo. Mentre con lei, caro diamanti, i conti li facciamo adesso. Oh, sì. Come previsto, esattamente cento milioni. Prossima fermata, Lugano. Stiamo già in Svizzera. Ah, la Svizzera, perfetto. Allora questi vengono sequestrati. E perché? Come perché? Esportazione illecita di capitale all'estero. Lei pagherà una multa pari all'importo versato. Non facci così, dottore. Io mi sto rivolgendo all'uomo, sa. Non certo, al mastico. Ah, volevo dire al funzionario. Lei questa faccia la vuole vedere sui giornali? Io, sì. No, non mi tocchi. Può essere infettivo, l'evasore. Stia fermo. Maronna, pure il bacetto, ma no. Roba da pazio. E voleva pure diventare socio del nostro circolo. Ah, ma io avevo capito subito, eh, che era un farabutto. E un gran cafone. Certo, certo. Ci ha salvati la mia palla nera. Certo, certo. Ragazzi, Marietto è tornato da Roma vincitore. Ti sei divertito con la mia amica Luana, eh? Ma che Luana, Luana, quella lì è roba da serie C. Io ho vinto la Coppa dei Campioni. Avete presente la Pamela Brown? Ma vai, mola, va. Appunto, me la son fatta. Ma se a te la Pamela Brown neanche te vedi. Lo sapevo, lo sapevo che non ci credevate. E allora, come Perry Mason, vi ho portato le prove. Prove, eccole qua. Prove fotografiche. Guardi vostro onore. Ah, complimenti. È proprio una bella foto. Le lavatura di un vestito da prezzo. Ma, Marietto, smettila. Ma che boia! Ho dimenticato le foto nell'abito del vescovo. Oh, Madonna! Bello, molto bello. Ah, Eminenza, questo c'è un dono di tutta la nostra parrocchia in occasione della sua nomina. Grazie, lo gradisco, grazie. Salvo, salvo là! Salvo! Ti ho rinito, ma cosa fai? Ma sei matto? Mi scusi, sua Eminenza. Avevo dimenticato questa. È la fattura. È un regalo? Non mi sembra carino. Grazie, cari. Perdoni ancora. Dammi qua, che... No, no, pago io, pago io. No, no, che qua, ho i soldi di tutti i padroni. No, non mi insista, pago io. Ma no! Sommi, ma non sommi. Che significa? Significa... Che mi voglio confessare. Anzi, siamo già in confessione. Io parlo e lei deve tenere il segreto. E va bene. Dede, Don Zeno, deve sapere che Roma è piena di diavoli. Ma che dico diavoli? Diavole! Ferrari, lei è proprio un somaro. Come pensa di diventare algegnere? Me lo dica. Non sa niente di economia, non sa niente di statistica, non sa niente di matematica. Io sono uno studente lavoratore, studio di notte. Sa, a quelle ore uno non è che può essere molto lucido. Mi faccia la domanda di riserva? Sì, adesso siamo a lasciare la doppia. Amici ascoltatori, allegria! Ferrari! Mi scusi, mi piace molto, ma il buongiorno. Senta, per favore, per me questo diploma è fondamentale. Mi faccia sta domanda di riserva, anche perché io devo 90.000 lire a Sandrone. Se quello mi becca, crack, crack, mi spacca in due. Professoressa, la prego, non vorrà mica avere un cadavere sulla coscienza. Va bene, va bene. Grazie. Le diamo un'ultima possibilità. Ci dica come si colloca il debito all'interno di un bilancio. Ah, su questo argomento sono preparatissimo. Se c'è uno qua dentro che è esperto di debiti, quello sono io. Si siede e risponda. Dunque, a proposito di debiti, le regole sono tre. Primo, evitare i creditori. Secondo, farsi legare al telefono. Terzo... Bocciato! Ma come bocciato? E vent'anni che campo io su queste regole? Bocciato. Allora? Allora, allora, io ce l'ho messa tutta, solo che la professoressa mi ha preso un'antipatia. Ti hanno bocciato, eh? Vorrei dire che ci riproverò a settembre, dai. Promosso, papà? Sì, promosso, con il massimo dei voti. Sì. Pensa che tutta la commissione, alla fine dell'esame, mi ha voluto stringere la mano. Ti dico che è stato un trionfo. Come dicono a Parigi, un arco di trionfo. Bravo, papà. Io ero convinto che non ce la facevi. Ma che fai, mi sottovaluti. Guarda che papà è un tipo tosto. Quando si mette una cosa in testa, finché non la ottiene, non molla. Grazie, Giulia. E dopo il diploma di ragioniere, mi voglio laureare in economia e commercio. Ma sono quattro anni in corso? Eh, per gli altri. Ma per uno sveglio come me ne basta uno. Quattro anni in uno? Sì, con la condizionale. E mi voglio anche laureare in legge. Voglio diventare presidente della Cassa del Mezzogiorno. E se mi gira, ti bastino tre parole. Ministro delle Finanze. Te capi? Papà, ma t'hanno bocciato. Come hai fatto a capirlo? Ma scusa, ministro delle Finanze? Perché pensi che papà non possa diventare ministro delle Finanze? Da ragazzo facevo il cassiero del calcio balino all'oratorio di Garbagnate Brianza. Mi son fregato tante di quelle palline. Ma tante di quelle palline... Fattimi andare dalla mamma A prendere il latte Devo dirti qualche cosa Che riguarda noi due Tu ho visto uscire dalla scuola Insieme ad un altro Con la mano nella mano Passeggiava con te Tu dirgli a quel coso Che sono geloso Se lo rivedo E gli spaccherò il buso Fattimi andare dalla mamma A prendere il latte Presto scendi Scendi amore Ho bisogno di te Ho bisogno di te Dai scendi Vieni giù Dove sta uscire dalla scuola Insieme ad un altro Con la mano nella mano Passeggiava con te Tu dirgli a quel coso Che sono geloso Che sono geloso Che se lo rivedo E gli spaccherò il buso Fattimi andare dalla mamma A prendere il latte Presto scendi Scendi amore Ho bisogno di te Ho bisogno di te Ehi scendi Vieni giù